Buonasera a tutti, eccoci qui di nuovo in una nuova puntata, per certi versi, una nuova serata qui con il nostro canale di Animamundi, e vi ringrazio ancora comunque sempre di seguirci. Questa sera parleremo di un altro argomento molto interessante. Diciamo da diversi anni che seguo, che mi interesso, insomma, dell'antico Egitto, parleremo proprio della storia dell'antico Egitto, in maniera particolare sulla visione della vita e della morte, che è qualcosa che un po' alla fine, da quando siamo piccoli, a scuola ci affascina, ma anche ci spaventa. Vediamo anche nelle opere pop, nei film, nei videogiochi, questa presenza della morte, riferita chiaramente all'antico Egitto, molto forte, molto quasi horror, a tratti grotteschi, a tratti anche molto paurosi, per certi versi, no? Penso per esempio alle mummie, penso per esempio al processo di mummificazione, ricordo quando stavamo a scuola, cos'è il processo di mummificazione? Questo togliere gli organi dal corpo dei defunti era qualcosa che ci spaventava, e che poi un po' nei film che vedevamo o nei videogiochi ci si presentava questo mondo egizio, molto dell'antico Egitto, molto legato alla morte, ma anche con aspetti veramente molto, molto paurosi. E allora mi sono domandato poi nel corso Frescendo quanto in verità questa visione dell'antico Egitto viene più dalla nostra cultura contemporanea, dalla nostra visione contemporanea, e quanto invece la morte per loro non era così opprimente, così paurosa, con questa visione così terribile, diciamo, no? Da come poi invece c'è rimasta a noi. Di tutto questo ne parleremo con la dottoressa egittologa Giulia Santoro, che ecco qui, eccoci Giulia. Ciao a tutti. Eccoci qua. Ricordo che è autrice del podcast Keru Voci dall'Antico Egitto, che ovviamente metteremo tutti i link in descrizione del tuo progetto. Grazie. Sì, sì, assolutamente. Ci dici Giulia come nasce? Ecco, sicuramente questa domanda l'hanno fatta migliaia di volte, però come nasce questa tua passione per l'Antico Egitto e soprattutto come nasce il tuo progetto online? Allora, innanzitutto lasciami ringraziare per questo graditissimo invito. Grazie. Sì, allora, come nasce questa passione? Questa passione nasce da un'infatuazione infantile. Io lo dico sempre, ho preso l'egittologia, come si può prendere il morbillo, la rosolia, insomma, le malattie infantili. Sì, è stata la mia maestra elementare, che è stata molto molto brava e mi ha fatto appassionare. Da lì appunto ho iniziato a interessarmi, a chiedere ai miei genitori che mi comprassero libri sull'argomento. Poi ho affrontato degli studi superiori al liceo artistico, avevo anche pensato un po' di cambiare idea, ma insomma sono dovuta tornare su quel percorso di studi e mi sono laureata presso l'Università di Pisa appunto in egittologia. Un anno e mezzo fa ho iniziato questa avventura del podcasting nata da un progetto che inizialmente avevo pensato in modo un po' diverso, però non ve la porto per le lunghe, da un anno e mezzo esiste questo podcast, Keru, che ha l'obiettivo, diciamo, di intrattenere raccontando l'antico Egitto da una prospettiva un po' diversa, cioè non dalla prospettiva cronologica alla quale siamo abituati, insomma, bensì a partire non dall'inizio ma dalla fine, cioè dal momento in cui la storia dell'antico Egitto è iniziato ad essere studiata e raccontata fino a diventare quella vera e propria disciplina che oggi conosciamo con il nome di Egittologia, che è un momento particolare della storia moderna che parte dalla spedizione napoleonica in Egitto del 1798-1801, fondamentale, fondamentale, una spedizione militare in realtà principalmente, che però parte con lo scopo di anche studiare, e fare uno studio sistematico del territorio egiziano che non si conosceva, sia nei suoi aspetti moderni, ma anche nei suoi aspetti antichi, e che darà via la prima grande pubblicazione sull'antico Egitto, che è la Description dell'Egitto, che uscirà in diversi volumi all'inizio dell'Ottocento, da lì poi inizieranno gli studi, la decifrazione, la famosa stella di Rosetta. Parallelamente a questo filone, il podcast si occupa però anche di raccontare l'Egitto attraverso soprattutto le fonti, il podcast si chiama Heru, che in antico egiziano voleva dire voce, quindi voci dall'antico Egitto, rifacendosi soprattutto alle fonti, e quindi c'è letteratura, mitologia, ma anche documentazione della vita quotidiana, quella anche che sentiamo un po' più vicino a noi, seppure ci separano da... E che poi è poco conosciuto un po', dalla maggioranza delle persone, diciamo. Sì, si conoscono magari quegli aspetti più macroscopici della cultura egiziana, e magari si conoscono meno queste piccole situazioni, questi microtemi. Il tutto in episodi che durano una dozzina di minuti, che sono espressi in tono narrativo, quindi sono una forma di storia, che vogliono anche essere immersivi con l'uso di musiche e di suoni. E da lì a partita questa avventura, ora è finita la terza stagione, con 40 episodi totali, e ora fra pochino, insomma, è nelle mie intenzioni di cominciare la quarta. Un bel lavoro, penso che ti prende anche molto tempo, insomma, e poi però dà anche tante, tante soddisfazioni. Sì, 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 sono molto contenta, anche perché è un'occasione anche per me, per imparare molte cose nuove, approcciarmi anche a molti argomenti, che ai tempi degli studi universitari, insomma, non avevo potuto approfondire. Certo. Sì, 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 ecco, ti volevo domandare questa, perché noi pensiamo sempre all'antico Egitto, piramidi, mummie, e abbiamo già, no, delle presenti, ne so, a nubi delle divinità, però come tutto questo, in verità, è costruito nel corso di secoli, cioè non è una cultura monolite, no, che è rimasta così, oppure che come i nostri concetti, no, sull'antico Egitto, sono quelli fissi, immobili, pensiamo che loro, gli egiziai erano questi, punto. Assolutamente, no, perché la storia egiziana antica è una storia millenaria nel vero senso del termine, parte dal periodo protodinastico che si attesta intorno al 3.150 a.C. e arriva fino al 452 d.C., che è la data dell'ultima scrittura, dell'ultimo documento in demotico conosciuto, che è una delle scritture dell'antico egiziano. Certo. Quindi è una storia che si spalma lungo l'arco di moltissimi secoli, che vede dei cambiamenti, che è anche, insomma, abbastanza ovvio aspettarsi. Passiamo dai famosi tre periodi principali dell'antico Egitto, che conoscono un po' tutti, cioè l'antico regno, il medio regno, il nuovo regno, inframezzati da tre periodi che vengono chiamati dagli studiosi periodi intermedi, che sono periodi caratterizzati da uno sfaldamento, decentramento del potere centrale, per ragioni di varia natura. Poi abbiamo un periodo tardo, abbiamo la dominazione persiana, abbiamo il periodo tolemaico, a partire dal 332 a.C., quando Alessandro Magno conquista l'Egitto, e quindi l'Egitto, culturalmente, anche cambia profondamente. e abbiamo infine poi Roma, che dalla famosa battaglia di Azzo, con tutto quello che ne seguì, fa dell'Egitto una sua provincia. Quindi aspettarsi che l'Egitto sia stato uguale a se stesso nell'arco di tutti questi secoli è inverosimile. È chiaro che quando lo si studia a scuola, per lo più è studiato, insomma, nella scuola dell'obbligo, anche perché altrimenti non basterebbe probabilmente un anno intero per raccontarlo, è chiaro che tutto viene condensato agli elementi, insomma, principali, quelli più vistosi e macroscopici, appunto. E quindi noi abbiamo un po', ci arriva questa impressione di questa cultura un po' fissa, questo faraone, questo immobilismo, la famosa società piramidale egiziana, tutta uguale a se stessa. Cioè, piramide, come le piramide, le strutture monumentali, così anche la cultura doveva essere in qualche modo... Ma questo è sporviante, ovviamente. E poi c'è la famosa divisione in dinastie che tutti conoscono, che anche quella però è un lascito di un autore che scrive nel III secolo a.C., in Apocatolemaica, che è Manettone, che fa un trattato e questo trattato in realtà addirittura ci è pervenuto da fonti anche più tardi. Questa suddivisione in dinastie, anche questa è fuorviante, perché oggi noi sappiamo, per esempio, che quella che Manettone chiama la settima dinastia probabilmente non è addirittura mai esistita. Sappiamo che prima della prima dinastia probabilmente ce n'è stata un'altra, o forse anche due, e che dopo la trentesima, insomma, la storia dell'Egitto continua, perché va oltre, ben oltre l'epoca in cui scrisse Manettone. E quindi anche questo ci dà un'idea di continuità che non è, insomma, abbastanza lontana. Assolutamente, assolutamente. Ecco, per riprendere il discorso che facevo all'inizio, nell'introduzione, questa visione della morte, della vita e della morte nell'antico Egitto che è arrivata fino a noi e che noi la vediamo in una maniera un po', come dicevo, delle volte un po' spaventosa, un po' horror, con questi tratti un po' romanzeschi, diciamo, no? Quanto è reale questo, cioè quanto era veramente presente nella cultura dell'antico Egitto e quanto invece era propria, cioè avevano una visione comunque diversa, non come la possiamo immaginare noi. Allora, l'aspetto funerario della cultura antico-egiziana è uno degli aspetti macroscopici di cui parlavamo prima per due ragioni. La prima è che, essendo tutto quello che riguardava il destino altremondano del defunto di vitale importanza, direi, per gli antichi egiziani, era fatto per durare e quindi anche archeologicamente parlando e storicamente parlando è giunto fino a noi perché realizzato su supporti che erano fatti per durare, cioè per lo più la pietra. Diversamente quello che era invece destinato alla vita quotidiana e mi riferisco anche all'edilizia civile, ai palazzi reali, l'amministrazione, eccetera, veniva realizzato in un'edilizia di mattoni crudi che, nonostante le condizioni ambientali dell'Egitto siano note per favorire la conservazione dei reperti, ovviamente ha avuto un destino completamente differente. Quindi questa è una delle ragioni. La seconda è che, chiaramente, è un aspetto che ci è arrivato anche dalle grandi scoperte, penso alla tomba di Tutankham, una scoperta per eccellenza, che ha influenzato notevolmente la cultura occidentale e ha dato questa impressione molto funeraria della cultura antico-egiziana. Se pensiamo che, per esempio, nell'Ottocento le mummie venivano sbendate in spettacoli pubblici, è chiaro che questa è una, voglio dire, uno degli aspetti davvero più evidenti di come venisse, insomma, accolta dall'Occidente questa cultura, ripeto, anche perché se ne sapeva il giusto e si sapeva per lo più da quello che era rimasto più evidente, perché destinato a durare nel tempo. Ovviamente. Invece non c'è nulla di più appunto diverso da quella che invece è la realtà che si può ben vedere studiando la cultura dell'antico Egitto, che era una cultura invece molto vivace, molto irriverente anche, la letteratura ci porta anche a un certo grado di ironia, è molto anche vicino a noi, penso a, non lo so, le liriche d'amore che sono arrivate fino a noi che ci restituiscono questi amori romantici davvero molto sentiti, la corrispondenza privata, tutta quella che è la documentazione privata, cioè di persone comuni, che certo, insomma, avevano sicuramente più mezzi dei poveri contadini, però che si relazionavano con le questioni di tutti i giorni, che fatte le debite differenze, insomma, non erano poi tanto diverse da quelle di oggi, insomma, siamo mossi un po' sempre dalle stesse esigenze nell'arco dei secoli. Sì, 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 assolutamente. E anche, secondo me, anche la visione anche religiosa per certi versi, che comunque è cambiata poi nel corso del tempo. Per esempio, così leggevo, la concezione della vita oltre alla morte all'inizio era vista solo per i faraoni, se non ricordo male, cioè questo per... Allora, innanzitutto per parlare di morte, che poi è l'argomento centrale di questo nostro appuntamento, cioè sfatare il mito della cultura egiziana come una cultura ossessionata dalla morte, partendo però proprio dalla morte. Certo. Se partiamo di lì, dobbiamo innanzitutto fare una premessa irrinunciabile, cioè dobbiamo spiegare come intendessero gli egiziani la persona e l'uomo. Noi siamo abituati, e questo deriva per lo più dalla cultura ebraico-cristiana e anche da quella musulmana, di intendere la persona come l'unione di un corpo e di un'anima, due componenti, una fisica e una non fisica. A questo proposito è bene dire che è sempre molto difficile quando ci si approccia allo studio delle culture antiche, anche non applicare le categorie di pensiero alle quali noi siamo abituati. Quindi ora dirò una serie di cose anche piuttosto complicate cercando insomma di semplificare, dicendo però che in realtà come veramente intendessero gli antichi egiziani loro stessi e il concetto di persona probabilmente in fondo in fondo non lo capiremo davvero mai e questo vale un po' per tutta la storia antica soprattutto. Allora, loro ritenevano che la persona fosse composta da una serie di elementi che chiamavano manifestazioni che per alcune fisiche altre non fisiche. Elemento costitutivo della persona era il nome, il ren. Il nome veniva dato al momento della nascita dai genitori al bambino o alla bambina. In questo nome venivano racchiuse una serie di significati che potevano andare dal fatto che il nome fosse un nome teoforo quindi che si riferiva ad una divinità oppure esprimere gli auspici per il futuro di questo bambino esprimere delle caratteristiche di questo bambino la sua provenienza etnica ma soprattutto per gli egiziani il ren il nome è un venire all'esistenza questo per un principio molto caro all'antico Egitto che è legato moltissimo anche alla parola e alla scrittura cioè ogni qualvolta una persona nominava il nome di un'altra in realtà era come se questa venisse nuovamente al mondo come se in qualche modo si manifestasse perciò vengono chiamate appunto manifestazioni a questo proposito non possiamo non dire due parole due permettimele sulla scrittura e sulla lingua antico egiziana chiaramente poi connesso cioè già questo che ci dici cambia moltissimo cioè già noi pensiamo a un nome un nome vabbè qualunque uno si serve per identificare una persona diciamo rimane si ferma lì si 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 ferma lì non ha un valore invece anche cioè ottiene questo significato molto più profondo e chiaramente ci così ci fa solo immaginare anche quello che c'era dietro anche questa concessione adesso ci sta spiegando sì la parola gli egiziani credevano nel potere creatore della parola del verbo e qui facciamo una distinzione la lingua dell'antico Egitto è l'antico egiziano che ha una sua evoluzione abbiamo detto parliamo di tre millenni di storia quindi non ci si può aspettare che l'egiziano parlato nel 3100 avanti Cristo fosse uguale a quello parlato nel 2500 avanti Cristo per dire e avevano una scrittura quella che più comunemente noi associamo più immediatamente il geroglifico che loro chiamavano Medu Necher le parole del Dio quindi qui andiamo ben al di là di un mero strumento di registrazione esatto loro ritenevano i geroglifici dotati di un grandissimo potere che poteva essere un potere benefico qualora il geroglifico esprimesse un concetto benevolo faccio l'esempio la famosa crocianzata che conosciamo un po' tutti l'Anc la vita che diventa un amuleto allo stesso tempo però le parole connotate le parole o meglio i segni connotati da significati malevoli o potenzialmente nocivi erano ritenuti talmente pericolosi che nei testi delle piramidi che sono i primi diciamo testi un po' più organici religiosi che iniziano a spiegare il destino postumo del sovrano perché a quel tempo è solo del sovrano il destino postumo vengono addirittura mutilati per non muocere al defunto quindi ci sono che ne so coccodrilli trafitti da lance mutilati geroglifici che rappresentano nemici resi innocui anche lì perché feriti da armi eccetera quindi questo ci dice molto sulla mentalità anche qui degli antichi egiziani ed è per questo che la parola non è solo utilizzata per identificare nel caso del nome proprio ma è un atto di creazione un atto di realtà e e questo ha poi valore proprio nella realtà ecco cioè non è un simbolo astratto diciamo convenzionale ecco non è unicamente uno strumento di registrazione è qualcosa che va oltre e che veramente plasma la mente dell'egiziano antico dell'uomo egiziano perché non può prescindere da questo elemento poi vabbè per quanto riguarda le scritture in Egitto sono esistite altre scritture tra le quali lo hieratico che si sviluppa parallelamente perché parliamoci chiaro per andare a fare la spesa nessuno scriverebbe la lista in geroglifico loro non diversamente da noi erano anche personcine piuttosto pratiche e quindi sviluppano parallelamente questo geroglifico corsivo che è noto col nome di hieratico poi ci saranno altre tradizioni relativamente alla scrittura che sono il demotico e il copto ma qui forse poi facciamo una digressione un po' troppo un po' troppo in là e queste scritture erano riservate diciamo una classe alta di scrivi oppure diciamo di persone molto ambienti oppure anche il popolo aveva una sua scrittura cioè nel senso sapeva scrivere perché questo l'alfabetizzazione era un sapere la scrittura in tutte le civiltà antiche è un sapere altamente specialistico quindi veramente alla portata di pochissimi e questo in qualche modo forse ci dà anche la misura del grande potere che era dato alla scrittura nell'antico Egitto se noi pensiamo che tutti i templi dell'antico Egitto sono colmi di geroglifici che nessuno in realtà li sapeva leggere perché metterceli perché si riteneva che realmente avessero un potere importante i geroglifici che è bene dirlo sono un sistema di scrittura ibrida cioè non non sono solo ideogrammi ma sono ideogrammi insieme a fonogrammi cioè a simboli che hanno il solo valore di suono completamente svincolato dall'immagine che rappresentano questo è molto importante perché fu il vero problema poi relativo alla decifrazione che c'era che si approcciava in un verso in un altro non capendo che in realtà era un sistema di scrittura ibrido poi ci arriverà Champollion grazie al Copto che è un'altra scrittura geroglifica che utilizza invece cioè scusami scrittura geroglifica un'altra scrittura dell'antico egiziano che utilizza invece l'alfabeto di Alessandro Magno l'alfabeto greco una volta che venne introdotto tornando invece a noi a queste manifestazioni che costituiscono la persona allora abbiamo abbiamo detto il nome che era importantissimo l'ombra l'ombra che è il doppio immateriale dell'individuo che accompagna sempre l'individuo salvo in un momento un momento di grande vulnerabilità per gli antichi egiziani che non è la notte ma è mezzogiorno un momento in cui il sole è allo zenith e quindi nessun oggetto nessuna persona proietta un'ombra è il momento in cui gli egiziani credevano si manifestassero gli spiriti maligni e quindi diversamente noi che magari ce li immaginiamo di più a venirci a dare fastidio alle coperte di notte lo si immaginavano a mezzogiorno e questo è un altro elemento l'ombra poi ci sono altri elementi ancora il ca il ca era l'energia vitale che nel momento del trapasso nel momento in cui una persona moriva doveva essere assolutamente nutrita qualora questo non fosse avvenuto avrebbe comportato una seconda morte di fatto il ca era presentato come due braccia alzate esisteva la statua del ca che rappresentava l'individuo che era morto con queste due braccia rappresentate sopra la testa che era racchiusa all'interno di un serdab di una cella all'interno della tomba tomba che prevede sempre nell'antico Egitto una parte privata inaccessibile dovrà costruito il corpo il sarcofago l'eventuale corredo funerario eccetera e una parte invece chiamiamola pubblica accessibile destinata al culto del defunto quel culto che gli avrebbe permesso di continuare a vivere anche dopo la morte venivano fatte in quest'area le offerte ma siccome gli antichi egiziani sapevano bene che il culto postumo di una persona non sarebbe durato più di una o due generazioni si dotano di una serie di strumenti per fare in modo che queste offerte al capo offerte che potevano essere alimentari ma anche di unguenti tessuti profumi eccetera fossero sempre garantite e lo fanno attraverso una formula che è una formula che rimarrà abbastanza costante lungo tutto il corso della storia egiziana che è la formula chiamata Etep di Nesut che garantiva attraverso la mediazione del sovrano che in realtà era l'unico che aveva il permesso di consacrare offerta alla divinità di continuare a provvedere al nutrimento del defunto questo per quel principio legato alla parola e alla scrittura di cui dicevamo prima una cosa nel momento in cui è nominata ma anche solo scritta esiste davvero e questa è una garanzia loro avevano la loro formula offertoria scritta qualora non fosse andato il sacerdote preposto al ca a portare loro le offerte la loro stele li salvava salvava il loro ca appunto che era uno di questi elementi che non usciva mai dalla tomba faceva solo un passaggio dalla camera funeraria che era appunto la parte più interna alla cella attraverso una falsa porta sulla quale poi nell'antico regno verrà iscritta questa formula dedicatoria offertoria il ca abbiamo detto che insieme appunto all'ombra il re costituiscono la persona ma non è finita qui perché la questione è un po' complicatina c'era anche un ba che era un'altra manifestazione che erroneamente in passato veniva tradotto col termine anima e questo ci riporta alla questione di prima cioè che alle volte è difficile definire le categorie di pensiero dell'antichità era rappresentato in forma d'uccello con la testa umana e talvolta anche le braccia era l'elemento che si ricongiungeva alla mummia una volta che la mummia era appunto stata trattata nello stato di corpo imbalsamato era l'elemento mobile che poteva andare fuori dalla tomba andare a visitare i suoi familiari eccetera ma che doveva ricongiungersi al corpo alla mummia tutte le sere altrimenti anche in questo caso seconda morte è altra tragedia ed era gravissimo poi non è finita qui perché tutto questo ovviamente dipendeva da uno degli aspetti macroscopici della cultura funeraria antico-egiziana c'è dal corpo questa ossessione anche qui che ci appare come un'ossessione o meglio nel preservare il corpo dal suo naturale deperimento dopo la morte e questo era un elemento fondamentale per gli antichi egiziani che avevano addirittura una parole che definivano il corpo da vivi che era due parole che significavano forma e apparenza e che avevano invece una parola specifica per identificare il corpo una volta trattato dal processo dai rituali di imbalzamazione dalle tecniche di imbalzamazione che anche quelle hanno una loro evoluzione nel tempo e si perfezionano moltissimo nell'arco dei secoli e avevano una parola sah per il corpo mumificato che non solo era in grado di non corrompersi e quindi di non morire se vogliamo ma soprattutto assorgeva ad uno stato di dignità addirittura quasi maggiore di quello in vita e che per chi non lo sapesse insomma i corpi venivano trattati a grandi linee così si procedeva ad eviscerare i corpi allevare gli organi interni stomaco fegato polmoni e intestino venivano inseriti all'interno dei vasi canopi questi vasi destinati agli organi veniva tutto estratto mediante un'incisione sul fianco sinistro in sede rimanevano i reni perché erano difficilmente accessibili gli egiziani praticavano anche l'ablazione del cervello cioè lo estraevano perché chiaramente avrebbe compromesso il corpo e lo buttavano via gli egiziani che tenevano tutto del corpo umano il cervello per loro non serviva nulla quello che noi sappiamo oggi è essere veramente il centro di tutto per loro non era così tutto dipendeva da un altro organo che ritenevano essere la sede dell'intelletto delle emozioni dei sentimenti che era il cuore cuore che è oggetto di una serie di attenzioni molto particolari per questo motivo anche perché è il protagonista del momento topico che gli egiziani ritenevano accadere nell'aldilà ossia quello della psicostasia il momento della pesatura del cuore cuore che addirittura aveva un suo omuleto uno scarabeo chiamato appunto scarabeo del cuore famoso scarabeo scarabeo del cuore sul quale era riportata la formula 30 del libro dei morti che era la formula ideata affinché il cuore non testimoniasse contro il defunto perché gli egiziani immaginavano che il defunto nella fase finale del suo periglioso viaggio nell'aldilà venisse poi a un certo punto giudicato da un tribunale oltremondano presieduto dal famosissimo Osiride sì 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 no dimmi no no mi immaginavo questa questa concessione delle anime che poi vanno che devono subire questo questo giudizio dal tribunale appartevano tutte le anime cioè anche all'inizio solo quello del faraone oppure avevano una concessione generalizzata cioè tutti i morti dovevano subire questo processo anche del cuore eccetera la pesatura del cuore allora in realtà la concezione dell'aldilà nell'antico Egitto subisce un'evoluzione anche molto profonda noi abbiamo alcuni testi che però non dobbiamo immaginare come testi diciamo che hanno una loro sintesi razionale si tratta in realtà sempre di insiemi di formule che attraversano appunto i secoli le primissime in forma un po' più compiuta le troviamo sul finire della quinta dinastia nella piramide di Unas è il momento in cui le piramidi iniziano a presentare delle iscrizioni cosa che nell'epoca precedente non c'erano sono una serie di formule che dovevano garantire il destino celeste del sovrano si immaginava che sempre attraverso tutta una serie di pericoli situazioni tra le più disparate il sovrano potesse diventare una stella imperitura cioè una stella circumpolare quelle che non tramontano mai quindi che avesse proprio anche un destino in una topografia specifica del cielo nel momento in cui diventava Ak Ak è un'altra manifestazione della persona ed è quella postuma cioè è quella dell'essere trasfigurato dello spirito è l'elemento luminoso l'elemento solare al quale gli egiziani si rifaranno costantemente poiché gli egiziani si ispireranno sempre all'osservazione anche della natura chiaramente come tutte le civiltà antiche al ciclo del Nilo che determinava la loro vita terrena in maniera veramente molto pratica e il ciclo del sole che era molto più che una metafora in realtà veramente un parallelo di quello che accadeva nell'oltretomba quindi passiamo dai testi delle piramidi riservati solo al sovrano nell'antico regno quindi un destino solo del sovrano nel primo periodo intermedio e poi nel medio regno che sono le epoche successive si assiste a una democratizzazione l'hanno chiamata gli studiosi dell'aldilà cioè per tutta una serie di situazioni in parte politica in parte sociali si produce una situazione di clientelismo che gli egiziani esprimono attraverso una parola che è imaku i privati e per privati intendiamo le persone che gravitavano orbitavano intorno al sovrano a vario titolo certamente non agli ultimi gli artigiani poveri contadini insomma erano persone iniziano a vedersi concesse dal sovrano una serie di concessioni molto importanti che vanno dalla possibilità di farci una tomba di avere un corredo di avere tutti quei dispositivi a cui iniziamo appunto a accennare prima che erano ritenuti fondamentali per poter continuare a vivere anche dopo il trapasso da lì si passa poi ai testi dei sarcofagi che sono una seconda elaborazione dei testi delle piramidi dove effettivamente appunto vediamo anche dal punto di vista letterario che vengono coinvolte anche persone che non sono il sovrano in questo destino un oppostumo poi abbiamo il celebre libro dei morti del nuovo regno e infine nei testi delle delle tombe regali del nuovo regno noi troviamo il libro dell'amduat che è il libro delle ore e qui si racconta una situazione diversa nel senso che si racconta di come il Ra sorga cioè il sole sorga e quindi nasca ogni giorno faccia il suo ciclo diurno per poi morire la notte e nella quinta ora ricongiungersi al suo corpo quindi ad Osiride in una sorta di mutuo soccorso dove Ra attraverso Osiride può rinascere ancora una volta e Osiride allo stesso tempo trae forza dal Diora in questo modo il ciclo giornaliero veniva visto come una continua nascita e morte e così anche il destino oppostumo del sovrano che fa questo viaggio notturno come Ra Ra sulla barca solare lungo un nilo immaginato sotterraneo che passa attraverso delle caverne minacciato da una creatura terrificante in forma di serpente che è una situazione molto diversa da quella di partenza cioè del destino stellare ora in realtà gli egiziani non elimineranno mai la questione diciamo celeste e solare lo vediamo appunto anche in quest'ultimo esempio e per di più nel nuovo regno il libro dei morti anche conosciuto come libro per tornare al giorno quindi per rinascere quindi di nuovo la metafora il parallelo naturale del ciclo solare lì l'aldilà è immaginato come un doppio dell'Egitto del tutto uguale diciamo e vi è un richiamo che si trova anche però nei testi delle piramidi che è quello ai campi di Iaru cioè questa sorta di campi di Elisi diciamo di paradiso quasi che però è abbastanza simile al mondo insomma dei vivi è un parallelo certo e quindi comunque in ogni caso il defunto trasfigurato che fosse il sovrano che fosse poi dopo la democratizzazione dell'aldilà un privato che fosse in forma di destino celeste o di campi di Iaru comunque doveva diventare un arc quindi uno spirito che però erano quegli spiriti che si manifestavano se in caso a mezzogiorno alle persone poverine senza la loro ombra però comunque quello che ci racconti adesso così riflettendoci è molto diverso anche come religiosità magari rispetto alle religiosità quelle che conosciamo diciamo che possono appartenere un po' a tutti cioè c'è una questione soprattutto all'inizio di potere poi di fatto chi ha il potere sull'aldilà e sulla morte viene a poi cioè chi ha il potere nella vita ha anche il potere della morte questo voglio voglio dire cioè è una religione molto tra virgolette cioè è basata anche su rapporti di potere molto forti tra virgolette assolutamente sì anche perché per poter in qualche modo giustificare delle disparità sociali così grandi è chiaro che dovevano esserci dei buoni motivi per legittimare il faraone e qui se vogliamo torniamo all'episodio appunto della psicostasia della pesatura del cuore che è quello raccontato nel capito numero 125 del libro dei morti tra l'altro spesso nella documentazione sono questi papiri sono corredati di miniature molto belle in particolare per quanto riguarda le taramesside delle sorte di vignette come se fossero proprio dei fumetti e quindi ci fanno vedere cosa succede insomma all'interno della narrazione invece scritta e il defunto veniva accompagnato in questo momento tenuto per mano dal dio Anubi il dio a testa di sciacallo si presentava di fronte a questa bilancia a registrare quello che sarebbe stato l'esito della pesatura del cuore appunto che era la sede della moralità dell'intelletto e dei sentimenti per gli antichi egiziani c'era il dio tot il dio che secondo il mito aveva inventato la scrittura che quindi avrebbe preso nota di quanto accadeva di fronte al defunto c'era appunto questa bilancia al suo cuore il tribunale del tremondano composto da 42 giudici che sono 42 divinità che spesso sono quasi i demoni a leggerne i nomi viene quasi paura presieduti da il dio dei morti Osiride chiamato anche il primo degli occidentali questo è uno dei suoi epiteti il signore del silenzio e questo cuore come veniva pesato veniva pesato mettendolo su un piatto sull'altro piatto era presente una piuma di struzzo che simboleggiava un concetto imprescindibile che ci fa tornare a quanto appunto stavi accennando tu su come si possa legittimare anche il potere faraonico che è il concetto di Maat il concetto di Maat è un concetto che possiamo riassumere con le parole di verità e giustizia ma anche di equilibrio di fatto è l'equilibrio cosmico e chi è il garante dell'equilibrio cosmico chi sarà mai fra tutti quelli che ci sono nella società egiziana se non colui che sta al vertice il faraone che fra i suoi epiteti ha anche appunto quello di colui che detiene la matta cioè di colui che detiene l'ordine cosmico e questa affermazione ci porta al mito della creazione perché è così fondamentale detenere l'ordine cosmico per gli egiziani perché gli egiziani immaginavano l'atto della creazione non come compiuto una volta per tutte qui c'è da dire che in realtà gli egiziani hanno tre cosmologie diverse questo perché la fanno sempre molto sempre come la persona che ha tante manifestazioni hanno tre tradizioni teologiche diverse che sono la risposta diciamo geopolitica diversa però della stessa idea dell'origine del mondo cioè il mondo si sarebbe originato da l'elemento liquido si sarebbe manifestato una sorta di monticello su questo monticello sarebbe venuto alla luce il sole cioè venuto alla luce nato sorto il sole e questo anche qui derivava dall'osservazione naturale perché probabilmente è diciamo la metafora religiosa di quello che vedevano gli egiziani quando arrivava la piena del nile quindi vedevano nel loro fiume questi monticoli questi isolotti e dove immaginavano che fosse nato il sole perché l'equilibrio cosmico è importante perché gli egiziani ritenevano che al principio di tutto quando ancora non esisteva nulla non ci fosse nel caos né il nulla ma un concetto un po' più articolato che è quello di nun loro lo chiamavano e cioè sostanzialmente il nun cos'era era il tutto senza forma organizzata una massa increata che però conteneva il potenziale della vita ed era una sorta di oceano primordiale avviene questo miracolo il dio ra il sole viene all'esistenza da solo dicono i testi da queste acque diciamo da questo oceano primordiale primordiale che appunto era questa massa increata masturbando si genera due divinità che sono Shu e Tefnut il secco e l'umida quindi l'elemento dell'aria l'elemento dell'acqua dell'umidità che a loro volta uniendosi generano Gebenut che sono la terra e il cielo che originano quattro figli che sono Iside Osiride Nefti e Seth Seth è il dio a testa d'asino ed è l'antagonista di Osiride nel mito appunto di Osiride loro pensavano però che questo nun rimanesse in realtà relegato ai margini del mondo e che in qualsiasi momento in realtà tutto avrebbe potuto tornare ad essere increato perciò il concetto di Matt di ordine cosmico di verità e di giustizia perciò il faraone era colui che garantiva in qualche modo il concetto di realtà anche del cosmo intero era garante di questa situazione di equilibrio certo come un equilibrio diciamo socio-politico così un equilibrio diciamo religioso ma anche ecco della realtà dell'aldilà era proprio un equilibrio diciamo ontologico quasi onnicoprensivo cioè quando ti dici che hai in mano l'ordine cosmico diciamo non resta fuori niente quindi insomma ti sei preso tutto ecco e questo chiaramente serviva quindi ogni volta immagino ogni volta che poi potevano succedere questi cambi di inestia oppure delle usurpazioni o degli scontri immagino si creavano nuove varianti o meglio per poter giustificare no magari l'arrivo di una nuova esatto infatti questi periodi intermedi a cui accennavo prima che sono questi periodi di crisi in cui si assiste appunto a un decentramento del potere a uno sfaldamento del potere per varie ragioni poi vengono sempre visti guardati come dei momenti in cui tutto era caos il momento in cui il potere torna ad essere centralizzato il potere faraonico riacquista sicurezza allora a quel punto le fonti dicono che è stato ristabilito l'ordine cosmico è certo è ovviamente ovviamente è chiaro e la legittimità del potere faraonico si basa moltissimo su questo concetto si basa sul fatto che gli egiziani ritenevano che i primi faraoni d'Egitto fossero state le divinità in persona quindi anche lì il faraone regnava in continuità col divino e non solo ma il faraone era il dio era il figlio di Ra e c'è proprio nella titolatura sarà nome figlio di Ra e era anche oro oro che era il figlio di Osiride Osiride che è al centro del mito e anche qui non possiamo non tornarci sopra è abbastanza conosciuto ma insomma per chi non se lo ricordasse troppo bene allora innanzitutto c'è da dire che anche qui sulla cultura antico-egiziana e sulla mentalità antico-egiziana gli antichi egiziani non hanno una mitologia propriamente detta hanno dei mitemi cioè noi troviamo nelle fonti una serie di elementi che potevano essere variamente riorganizzati a seconda dei casi a noi spesso appaiono anche incoerenti contraddittori cioè ogni tanto come prima dice una cosa poi ne dice un'altra per loro probabilmente questo aveva perfettamente senso e qui torniamo al problema che siamo noi che guardiamo allora e non riusciamo a capire e la versione infatti completa del mito di Osiride ci arriva da una fonte molto tarda degli inizi del secondo secolo dopo Cristo che è più tardi nella fase finale diciamo quasi ed è un greco è Plutarco di Cheronea che nel suo su Iside e Osiride perché nel frattempo il mito Iside di Osiride aveva trovato una grande diffusione nel mondo classico ce lo racconta così allora c'è stato un tempo mitico in cui Osiride regnava sull'Egitto era un sovrano illuminato talmente illuminato che girava per l'Egitto viaggiando e istruendo il popolo sull'agricoltura e sulle leggi ma aveva questo fratello questo setta a cui abbiamo accennato prima che era molto invidioso e qui corsi ricorsi storici potremmo dire da Caino a Bele passando per il mito fondativo di Roma arrivando fino al Re Leone c'è sempre c'è sempre dei sconti graffatelli invidia c'è sempre un fratricidio e qui non siamo da meno non siamo da meno perché mentre è via per uno dei suoi viaggi setta organizza una congiura con altri 72 congiurati cioè prevede di organizzare un banchetto di mettere in paglio un'arca che costruisce sulla base delle misure esatte del corpo di Osiride e qui poi si capisce anche l'importanza del sarcofago nell'antico Egitto costruisce quest'arca fa costruire quest'arca fa questo banchetto Osiride è invitato scopo del gioco è chi entra nell'arca cioè nella bara nella cassa e ci va di misura la vince Osiride non è esattamente un volpone in quel momento si fa fregare si infila nella cassa arrivano i congiurati la chiudono mettono del piombo fuso e la gettano nel Nilo dal Nilo approda in Libano poi qui un po' il Plutarco un mito diciamo riportato dalla fonte greca un po' insomma divaga però comunque la moglie Iside disperata di aver perso suo marito ne cerca il corpo lo riesce a trovare lo porta in Egitto apre questa bara si mette a piangere sul corpo del marito defunto al chiaro di luna purtroppo Seth la vede prende il corpo di Osiride lo smembra in 14 pezzi ci dice una tradizione iniziale poi saranno 42 quanti sono i distretti dell'Egitto in Omoi che erano i distretti geografici diviso il territorio e appunto lo disperde per tutto l'Egitto la povera Iside si dispera ma mostra una tenacia senza limiti si fa aiutare dalla sorella Nefti e pare anche da un figlio che Nefti aveva avuto con Osiride insomma in famiglia non si facevano grandi problemi che era Nubi il dio sciacallo che poi è il dio preposto alla mumificazione non a caso raccolgono tutti questi pezzi li ricompongono ne manca solo uno il pezzo forte cioè il fallo che Iside che è grande maga crea da sola da questa magia sarà possibile concepire un figlio postumo che è Oro il dio dalla testa di Falco questo dio verrà cresciuto nelle sacre paludi della città di Buto nel Delta con l'unico scopo nella vita di vendicare il padre ci riesce vince su Seth ma soprattutto Seth viene sottoposto a un tribunale e qui ritorna l'elemento del tribunale che anche il defunto si vede di proporre nell'aldilà il tribunale è preseduto dal dio Tote il dio della scrittura che decide che il regno dell'Egitto è di oro e non di Seth ed ecco perché il sovrano è oro in vita e diventa Osiride nella morte e in qualche modo questo legittima il faraone precedente che muore e diventa quindi un Osiride a il figlio diciamo esatto al successore che invece è un oro che anche se magari non era un figlio biologico comunque era un figlio nel parallelo religioso ecco certo assolutamente è molto molto interessante poi ecco questo concetto anche della giustizia nell'aldilà cioè che viene soppesato il cuore quindi simbola la moralità e chiaramente quasi con invenzione o comunque con una costruzione originale no perché magari nelle altre diciamo almeno nelle religioni quelle arcaiche antiche almeno ancora non era presente questo 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 diciamo elemento diciamo di elaborazione rispetto a questa questione del giudizio e anche del fatto che prima della pesatura del cuore il defunto sia tenuto a fare due dichiarazioni di innocenza anche note come confessioni negative perché iniziano tutte con non ho fatto questo non ho fatto quest'altro eccetera eccetera e che addirittura si pensi che il cuore cioè la sede dell'intelletto anche vada talmente fuori controllo in quel momento rispetto al suo possessore da rendersi necessaria la creazione di una formula riguardo al cuore affinché questo non gli venga in mente insomma di tradire il defunto e di farsi scappare magari qualche peccatuccio è chiaro che è un'elaborazione veramente molto articolata molto complessa poi non lo abbiamo detto a seconda dell'esito della pesatura c'erano destini diversi quello della dannazione tra l'altro atrocissima fra le fauci di un mostro chiamata la grande divoratrice Ammit in forma di coccodrillo ipopotamo e leone cioè gli animali più temuti era anche una divinità la divinità coccodrillo questa Ammit o no? no la divinità coccodrillo era Sobek che era una divinità realtà infatti mi ricordo che c'era una divinità però non è Ammit no 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 c'era questa divinità coccodrillo che come tutte le divinità egiziane era connotata sia da elementi positivi che negativi perché questo elemento della dualità c'è sempre nell'antico Egitto ricorre costantemente nulla è buono in assoluto cattivo in assoluto ma ci sono sempre più o meno due facce della medaglia oppure il destino della beatitudine lo abbiamo detto i campi di Iaru tutto molto bello e tutto in costante dialogo con l'aldiqua ora non so se abbiamo tempo e vogliamo magari leggere qualche passaggio della confessione negativa che ci dà anche la misura un po' di quello che era ritenuto peccato nell'antico Egitto molto interessante allora vediamo allora questa è appunto dal capitolo 125 che è quello che riguarda la psicostasia il momento in cui il defunto arriva nella sala delle due mat e il defunto nella sua prima dichiarazione negativa dice non ho commesso iniquità contro gli uomini non ho maltrattato le bestie non ho commesso iniquità nella sede di Maat non ho voluto conoscere ciò che ancora non c'era cioè non ho provato a predire il futuro non ho tollerato di vedere il male non ho cominciato nessuna giornata chiedendo un donativo da quelli che dovevano lavorare per me il mio nome non è arrivato al capitano della barca cioè nessuno ha chiesto giustizia a Ra perché il defunto aveva compiuto qualcosa insomma di malevolo o brutto non ho bestemmiato Dio non ho impoverito un misero non ho fatto ciò che è tabù divino non ho danneggiato un servo presso il suo padrone non ho avvelenato non ho fatto piangere non ho ucciso non ho dato ordine di assassino non ho causato pena a nessuno non ho diminuito le rendite alimentari nei templi non ho sciupato i panni degli dei non ho rubato le gallette dei glorificati non sono stato pederasta non ho compiuto atto impuro nel luogo santo del Dio della mia città non ho giunto e non ho tolto allo staio non ho alterato la rura che era un'unità di misura quindi non ho barato non ho giunto al peso della bilancia è qui sempre insomma questioni di truffa in poche parole non ho appunto falsificato il peso non ho tolto il latte dalla bocca degli infanti non ho catturato gli uccelli dei boschetti degli dei non ho pescato i pesci dei loro stagni non ho fatto deviare l'acqua nella sua stagione cioè non mi sono impossessato dell'acqua che appunto con questo regime idrico estremamente complesso impegnativo gli egiziani insomma avevano costantemente a che fare dalla quale dipendevano non ho costruito una diga per deviare l'acqua corrente non ho spento un fuoco nel momento di ardere non ho trascurato i giorni di offerta non ho arrestato il bestiame dei beni del Dio non ho impedito Dio nella sua uscita processionale quindi ci sono una serie di elementi che ci dicono un po' quello che era peccato per gli antichi egiziani certo sì sì che poi alcune cose anche poi sono arrivate per certi versi fino a noi hanno influenzato anche le religioni successive e anche ci sono degli elementi proprio propri come per esempio come dicevamo del prendere l'acqua attraverso di far confluire altra acqua quindi prenderla per sé diciamo dal Nilo però ci sono anche cose particolari ecco per esempio di non far piangere addirittura a tanti o specificare di non essere il mandante di un omicidio che non è solo brutto uccidere ma anche essere chi dà ordine di uccidere qualcun altro ora è chiaro che come tutte le confessioni era anche abbastanza no sì insomma ripeto ci voleva una formula per garantirsi che il cuore non potisse il destino quindi ci sarà un perché ecco poi erano personaggi anche comunque avevano anche molto potere diciamo non erano personaggi insomma così secondari quindi che potevano ecco avere a che fare con intrighi o altri diciamo quindi in qualche modo dovevano diciamo proteggersi diciamo da questo punto di vista invece per quanto riguarda noi dicevamo la vita hai fatto prima un accenno a quanto poi di fatto abbiamo anche molti elementi vitali cioè la vita e la morte poi di fatto erano veramente in connessione tra loro e ecco queste scene ecco di vita quotidiana anche per certi versi mi viene in mente una cosa molto così che magari può interessare i ragazzi cioè come non so la scuola esisteva nell'antico Egitto cioè poteva qual era la vita cioè abbiamo delle scene di vita quotidiana così allora riguardo la scuola sì assolutamente esisteva alla scuola per gli scrivi c'è un bellissimo testo che io ho avuto anche modo di trattare nel podcast che è l'insegnamento di un padre che è a suo figlio è una satira di mestieri cioè che per invogliare il figlio andare a studiare gli dice come sono terrificanti tutti gli altri mestieri sono tutti tremendi non ce n'è uno buono il migliore di tutti è quello di scrivere quindi addirittura lui gli dice io ti farò amare i libri più di quanto tu ami tua madre quindi questo auspicio anche che il figlio studiasse si desse da fare lui gli dà tutta una serie anche di consigli diciamo di natura morale poi per affrontare il suo futuro veramente un testo molto bello anche molto divertente perché appunto per mettere in luce tutti questi difetti insomma le metafore sono le più disparate sì esisteva la scuola è chiaro anche la scolarizzazione era veramente molto bassa l'abbiamo detto sapere specialistico scene di vita quotidiana le tombe sono piene di scene di vita quotidiana che spesso hanno anche un valore simbolico noi vediamo scene di caccia nelle paludi poi è chiaro trattandosi di persone di alto rango sono tutte scene di corte banchetti il defunto a tavola il defunto è quasi sempre a tavola soprattutto all'inizio perché c'è questa ossessione che in qualche modo questo cad debba venire nutrito e quindi il cibo è fondamentale quindi ci sono tutte scene di offerte danze a seconda anche delle tombe abbiamo scene di tributi perché a seconda di chi era la persona il defunto in questione magari aveva anzi sicuramente aveva avuto un ruolo a corte anche di natura politico amministrativa quindi magari era il governatore della tal provincia e quindi faceva vedere raccontavano nelle loro autobiografie che erano fondamentali la loro vita tutte le cose che avevano compiuto il loro curriculum diciamo perché gli dèi dovevano sapere sia della loro prossimità al faraone sia che avevano avuto delle vite rette e comunque in qualche modo connotate dalla bontà d'animo diciamo diremo noi oggi perché l'Egitto è in realtà dispetto di questa apparenza lo abbiamo detto finora abbiamo parlato di tutto questo grandissimo impegno che loro mettono che va dall'architettura funeraria tutti i dispositivi di cui abbiamo parlato prima l'elaborazione religiosa eccetera eccetera perché in realtà gli egiziani lo dicono loro stessi odiavano la morte non l'amavano volevano fuggirne in tutti i modi possibili tant'è che l'appello ai viventi che era quello che era posto nelle parti pubbliche diciamo nella tomba spesso all'esterno e proprio in riferimento all'autobiografia del defunto che era quello che esortava i vivi a pregare e a perpetuare il culto del defunto esordisce così o voi che amate la vita e odiate la morte quindi i vivi non avevano tutta questa aspirazione di morire fanno di tutto per potersi tutelare dalla morte per continuare a vivere per continuare a vivere in uno stato di benessere e questo è molto evidente e in più è molto evidente seppur anche lì è chiaro ci fosse uno scetticismo di fondo non è che si sentissero del tutto sicuri che grazie a tutto quello che avevano in qualche modo messo in campo che in realtà non si sarebbe poi verificato una morte definitiva una fine dell'esistenza però era veramente molto sentita come in costante dialogo con la vita la morte tant'è che i vivi e i morti dialogano questa è una convinzione che traspare molto bene da una categoria di documenti limitata perché sono circa 15 esemplari tutti la maggior parte dei quali scusami anteriori al nuovo regno che si chiamano appunto lettere ai morti sono delle vere e proprie lettere si tratta proprio di corrispondenza che i vivi scrivono ai morti talvolta su papiro talvolta sulle ciotole che servivano per le offerte così il defunto sarebbe stato attirato per mangiare avrebbe letto il contenuto della lettera e hanno un tono che non è il tono di chi si rivolge a qualcuno che è morto è il tono con cui ci si rivolge a uno che è vivo faccio l'esempio e anche circa i temi i temi sono molto pratici sono temi della vita pratica non si chiede al morto di benedire il vivo gli si chiedono cose due esempi anche qui per chi volesse li trova nel podcast allora uno in cui abbiamo un marito che scrive alla moglie è molto molto adirato e perplesso lui si sente maledetto non ci dice perché non ci dice se sta male fisicamente se gli è successo qualche disgrazia di altro tipo dice io non capisco perché tu mi stia maledicendo io quando tu eri in vita ho fatto di tutto per te ti ho amato moltissimo non ti ho fatto mancare nulla rispetto anche di quello che mi dicevano gli altri quando ti sei ammalata ti ho fatto curare quando era il momento della fine io non c'ero sono tornato in tutta fretta quando sei morta oppure pianto non ti ho mai tradita io vorrei capire perché mi stai maledicendo e poi fra le righe si capisce che lui probabilmente stava portando una nuova donna in casa cioè si stava riaccompagnando e questo gli aveva prodotto la convinzione che la moglie defunta gliene stesse combinando di ogni e veramente il tono è accorato ed è colloquiale quotidiano oppure ce n'è un altro lo stesso di una moglie questa volta e di un figlioletto che scrivono al padre anche gli defunto e la moglie sembra quasi dire io te l'avevo detto è una classica frase lei dice quando eri vivo io ti avevo detto che dovevamo fare che tu avresti dovuto fare in un certo modo affinché a tuo figlio venisse garantita la sua legittima eredità tu hai fatto di testa tua si è intromessa a un'altra famiglia poi anche lì la documentazione epistolare è sempre un po' difficile perché dà per scontate delle situazioni che noi non possiamo conoscere e gli dice io te l'ho detto che dovevi fare così hai fatto di testa tua fatto stacca adesso tuo figlio ha senza l'eredità e addirittura invoca chiede al marito di invocare una corte di morti affinché si scagliano contro queste persone che a suo dire si erano illegittimamente appropriate dell'eredità sua e di suo figlio e quindi sono questioni veramente molto molto quotidiane molto vive molto pratiche quindi anche aspetti ecco negativi che possono capitare nella vita per loro avevano comunque una connessione con i defunti e per quello ecco forse questa cosa che comunque il defunto entra anche una manifestazione il defunto entra in casa o comunque mangia insieme agli altri eccetera proprio per avere sempre questo questo contatto questo anche forse un modo per spiegarsi sempre che le cose vadano bene nella vita ora io forse prima mi sono espressa male non che queste ciotole su cui erano iscritte le lettere fossero state rinvenute in contesti domestici sono sempre state rinvenute nelle tombe quindi voleva dire che qualcuno aveva portato l'offerta all'interno della ciotola scritto dentro questo messaggio per il defunto presso la tomba del defunto sì e poi c'è proprio la testimonianza di questo reciproco dialogo tra l'aldiquà e l'aldilà che per loro è una cosa molto molto reale e tra l'altro un passo di un testo che anche questo vi leggo perché è veramente direi che forse può anche chiudere questo questa questa chiacchierata che abbiamo fatto molto più esplicitamente di quanto potrei potrei fare io che è un testo che è stato scritto nell'antico regno è un testo l'insegnamento di Orgedef che era il figlio di Cheope il costruttore della grande piramide che immagina questo questo insegnamento rivolto a suo figlio quello dell'insegnamento è un filone letterario che troverà grande fortuna nell'antico Egitto e che ci è giunto da degli ostraca quindi dei frammenti ceramici di epoca del nuovo regno che dice in un passo rivolgendosi al figlio fa eccellente la tua dimora nella necropoli e fa perfetta la tua sede dell'occidente adotta questa regola perché la morte per noi è scoraggiante adotta questa regola perché per noi la vita è esaltante la casa della morte serve alla vita molto molto bella e proprio riassume questo rapporto tra vita e morte che abbiamo cercato un po' così su grandi linee di raccontare a quelli che vi ho letto mi preme dirvelo sono le traduzioni fatte da Edda Bressani nel suo intramontabile letteratura e poesia nell'antico Egitto assolutamente un testo che anche io insomma ho sentito anche perché è una delle più conosciute delle più famose in Italia ecco proprio per questo appunto volevo noi di solito ai nostri ospiti chiediamo proprio un consiglio di lettura o un film che poi chiaramente metteremo in descrizione cosa vuoi consigliare per chi vuole approfondire anche questi argomenti più specifici sull'antico Egitto o in generale anche per iniziare questo lungo viaggio di conoscenza del mondo dell'antico Egitto allora di libri senz'altro questo qui di Edda Bressani letteratura e poesia dell'antico Egitto cultura e società attraverso i testi che è un'antologia bellissima in lingua italiana intramontabile trovate veramente tutta la letteratura antico egiziana da quella più antica quella più moderna nei suoi esempi veramente più belli e quindi è imprescindibile per capire davvero la mentalità degli antichi egiziani poi allora dal punto di vista archeologico un manuale che è abbastanza abbordabile che tratta tutto il periodo e che si legge anche bene pur essendo un manuale di fatto archeologico anche utilizzato all'università è quello di Catherine Bard che si intitola archeologia dell'antico Egitto che è edito da Carrocci che è questo qui eccolo qui per quanto riguarda invece l'aspetto che abbiamo trattato oggi nello specifico il testo che mi consiglio che mi sento di consigliare è questo qui di John Taylor che però tuttavia in inglese Death and the Afterlight in Ancient Egypt che è anche questo qui una pietra migliare più recente in lingua italiana per quanto riguarda la storia c'è un libro che è uscito nel 2022 quindi è veramente recentissimo mi ero preso un punto eccolo qui di Patrizia Piacentini e Massimiliano Pozzi Battaglia che è Egittologia un'introduzione edito dalle monie io ancora non ce l'ho però insomma non ho dubbi che sia un ottimo testo ne ho detti un po' di più di lungo no 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 ma è comunque almeno possibile cioè hanno una panoramica di testi che possono consultare sono pochi diversi perché c'è la letteratura l'archeologia la storia poi insomma l'aspetto più strettamente funerario dell'intera questione assolutamente sul film che ne avevamo un po' di volato ne sono usciti molti purtroppo ma grande davvero io devo dirti che un film sull'antico Egitto io non ce l'ho però ho una miniserie che mi era molto piaciuta fatta dalla BBC che è data del 2005 per chi riuscisse a ritrovarla l'avevano trasmessa su Sky un po' di anni fa era veramente carina una miniserie in sei episodi che parla della scoperta della tomba di Tutankhamon del padovano Belzoni che è questo personaggio ottocentesco che fa tutta una serie di scoperte non credi grandi movimentazioni di enormi reperti archeologici una storia tutta italiana anche lui ha avuto maledizioni cose no 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 ha avuto una vita veramente degna di un romanzo e a chi volesse tutti questi temi che sono trattati nella miniserie li trovate anche nel podcast e come ultimo tema della miniserie c'è la celebre questione della decifrazione si chiama Egypt Rediscovering a Lost World questo è quello che mi sento di consigliare di vedere speriamo veramente di riuscire a recuperarlo in qualche modo perché purtroppo sul filone egittologico posso consigliarvi fil di fantascienza a me piace molto la fantascienza ma con l'egittologia niente a che vedere no no assolutamente e ti ringraziamo ancora Giulia veramente di di questo grande intervento che che c'è così concesso e speriamo ecco che tanti anche ragazzi eccetera possano appassionarsi all'egittologia a questo lungo viaggio nella storia dell'antico Egitto grazie mille a voi e buona serata grazie altrettanto grazie